Arrestato ieri sera l'aggressore di Rosalba Guicciardi, la donna coltellata in via marchese di Villa Bianca, sempre ieri a Palermo. Operazione milicia violenta, arrestate 6 persone e denunciate 8. Fiat di Termini Merese, prorogata per altri 6 mesi, la cassa integrazione. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews, oggi è martedì 15 aprile. È stato arrestato ieri sera l'aggressore di Rosalba Guicciardi, la donna coltellata in via marchese di Villa Bianca, sempre ieri pomeriggio a Palermo. L'uomo non si rassegnava alla fine della loro relazione, la donna è stata operata ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Sentiamo. Ancora un'aggressione brutale, ancora una vittima di stalking, è accaduto a Palermo alla luce del giorno sotto gli occhi di centinaia di passanti in via marchese di Villa Bianca, poco dopo via Laurana. Nel tardo pomeriggio di ieri l'ex compagno si è avvicinato all'auto di Rosalba Guicciardi, 34 anni, ha aperto lo sportello e l'ha colpita allo stomaco, alla spalla e un braccio con un grosso coltello da cucina che si era portato da casa. Poi è fuggito a piedi, qualcuno dei testimoni ha anche cercato di raggiungerlo ma in vano. Giuseppe Casale, 43 anni, è stato arrestato poco dopo le 23 in via Ugo Lamalfa, dopo una fuga durata 5 ore. Era in auto, ha tentato di scappare ma è stato subito bloccato. Disoccupato, Casale ha lavorato come banconista al bar Mazzara, divorziato e con una figlia adolescente dopo essere stato fermato a ammesso di aver aggredito la ex con cui aveva da poco concluso una relazione durata soltanto sei mesi ma ha riferito di averla soltanto graffiata. Qualche settimana fa lei lo aveva denunciato ma sembra che la sua condotta non fosse comunque considerata pericolosa. Rosalba Guicciardi è ricoverata a Villa Sofia in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sembra inoltre che l'uomo avesse manifestato strani pensieri su Facebook negli ultimi giorni, un particolare questo che inevitabilmente ci riporta col pensiero a un'altra vittima di stalking, la povera Carmela Petrucci. Anche in quel caso l'aggressore aveva scritto frasi preoccupanti ma nessuno aveva dato importanza alla cosa. A seguito dell'aggressione abbiamo trovato una grossa collaborazione da parte dei cittadini. Molti di loro ci hanno dato delle indicazioni determinanti per l'identificazione e la cattura dell'aggressore della ragazza. Lui non ha parlato un granché e non lo abbiamo neanche sollecitato più di tanto perché comunque in nottata avevamo raccolto tutti gli elementi investigativi che ci consentivano di procedere al suo fermo. Dopodiché lui sarà sentito dall'autorità giudiziaria in sede di interrogatorio di garanzia. C'era effettivamente una denuncia che però non destava preoccupazioni per l'incolumità della ragazza. L'uomo aveva minacciato la ragazza in base alla denuncia della stessa che se la ragazza avesse persistito nel volere interrompere la relazione con lui, lui di rimando avrebbe diffuso dei fatti strettamente personale della ragazza. Una targa alle porte di tutte le città siciliane contro la tratte e contro la violenza sulle donne. Questa è l'iniziativa presentata dal presidente dell'Anci Sicilia, Luca Orlando, che avvilanisce mai incontrati i rappresentanti del coordinamento antitratta a favore l'OVET di Palermo e del CIS. Ringrazio il CIS, ha detto il presidente Orlando, per avere coinvolto l'Anci Sicilia in questo progetto cui assicuriamo tutta la nostra collaborazione. Nei prossimi giorni invieremo una nota a tutti i sindaci dell'isola per sensibilizzarli al problema, sottolineando che in questo caso specifico bisogna impegnarsi ad allontanare l'ospetto della solitudine che penalizza le vittime e rende impotenti le istituzioni e la società civile. Rapine in abitazione ai danni di persone anziane. Nella notte i carabinieri della compagnia di Bagheria hanno notificato sei misure cautelari e denunciato otto persone per i reati di rapina. Furto, porto obbiusivo di arma da fuoco e ricettazione. Nell'operazione, chiamata Milicia Violenta, coinvolti anche cinque minori. I dettagli nel servizio. L'operazione è nata come un'attività investigativa inizialmente diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo e poi transitata per materia, per competenza a reazione materia, la procura di Termini Merese e che ha riguardato questa serie di ragazzi, molti dei quali giovani, in tutto erano 14, che nell'arco temporale fra gennaio ed aprile 2012 ha compiuto diverse rapine, alcune in Palermo, altre a Trabia e soprattutto ad Altavilla Milicia, di cui il nome all'operazione che è Milicia Violenta. Noi stamattina abbiamo eseguito cinque misure cautelari, di cui quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, una sottoposizione agli arresti domiciliari e una sottoposizione alla misura coercitiva dell'obbligo di firma, in più risultano denunciati a piede libero altre otto persone, di cui tre sono indagati dalla DDA e cinque che erano minori all'epoca della commissione dei delitti rimangono indagati dalla procura dei minori. Quello che è emerso subito chiaramente sono alcune regolarità fra i vari reati. La prima è l'uso di una particolare violenza da parte degli indagati che non esitavano anche con l'uso di armi da fuoco a minacciare, anche a colpire le vittime che appartenevano tutte quanti, e questo è il secondo punto di regolarità, alla fascia debole degli anziani, in particolare quelli che vivevano in abitazioni isolate e quindi possiamo dire più esposte al pericolo di questo genere di reati. Voltiamo pagine europee, il PD lavora ancora alla lista, fuori la scilabra, dentro la stancheris ci sarà anche il professore Fiandaca. Il Partito Democratico isolano è alle ultime battute per completare la lista per le elezioni europee. Dopo il caos presentazione a Roma dove la delegazione siciliana ha palestato tutte le sue spaccature interne, con interventi polemici del segretario regionale Fausto Raciti e del presidente della regione Rosario Crocetta e la mancata candidatura annunciata da tempo di Antonello Cracolici, adesso si stanno smussando gli ultimi spigoli per arrivare alla quadratura del cerchio. È ormai certa la rinuncia di Nelli Scilabra, assessore alla formazione nell'esecutivo regionale, a favore di un'altra donna vicina al governatore, Michela Stancheris, che nella scilabra è anche collega in giunta con delega al turismo, poche le speranze per Mariella Lobello di finire in lista. Anche perché sembra destinato agli alleati all'Ars di articolo 4 il posto lasciato libero da Giussi Nicolini, il sindaco di Lampedusa che ha rinunciato alla candidatura in polemica con Raciti. Dovrebbe trattarsi di una donna proveniente dal mondo dell'imprenditoria. Infine, ieri è arrivata la conferma della candidatura del giurista Giovanni Fiandaca che ha sciolto positivamente la riserva. Ultimamente Fiandaca era stato protagonista di una polemica che aveva per oggetto il libro La Mafia non ha vinto, che il professore ha scritto insieme allo storico Salvatore Lupo, in cui venivano criticati il processo sulla trattativa e le star dell'antimafia. Stamattina in contemporanea Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo sono state consegnate le 150.000 firme raccolte in tutta Italia per la presentazione della lista per le europee del 25 maggio prossimo, l'altra Europa con Sipras. A Palermo l'evento si è svolto, in Piazza Vittorio Emanuele Orlando l'intervista. Oggi presentiamo le firme per l'accettazione della nostra lista, come sapete la legge ci ha imposto la raccolta di 30.000 e 35.000 firme nel collegio Sicilia e Sardegna. Noi abbiamo raggiunto un risultato straordinario perché ne abbiamo raccolto più di 45.000 e siamo molto contenti di questo perché ci ha dato l'occasione di incontrare tanta gente nei banchetti dove raccoglievamo le firme e questa gente ci riconosce due cose principalmente. L'essere una vera opposizione in questo Paese, una opposizione alla strage degli innocenti come la chiamiamo noi che si è perpetrata in Europa attraverso i tagli all'economia e alla spending review che ha in qualche modo demolito ulteriormente gli interessi di tanta gente e ci riconosce soprattutto la capacità che abbiamo avuto in queste settimane di far ritornare l'attenzione alla politica tanta di quella gente che da molto tempo non ne voleva sapere più niente, non ne voleva sapere più niente perché i partiti hanno dimostrato in questi anni di essere un elemento certamente di degrado della politica. Vogliamo dare qui in piazza un messaggio attraverso la costruzione di un video, costruiremo delle piccole interviste di persone che hanno firmato per la presentazione della lista ma che rappresentano ognuna di esse qualche cosa, lavoratori disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, personalità dello spettacolo, i nostri candidati, varie categorie, giovani, meno giovani. Fiat di Termini Merese, prorogata per altri sei mesi la cassa integrazione, diversi progetti in campo per la reindustrializzazione del sito. Niente mobilità per i lavoratori di Termini Merese ma proroga straordinaria per altri sei mesi, fino al 30 dicembre della cassa integrazione in deroga in scadenza il 30 giugno. Lo ha annunciato il Ministero dello Sviluppo in una nota in cui afferma di reputare questo tempo sufficiente a verificare i progetti di reindustrializzazione in campo. Il Vice Ministro Claudio De Vincenti è incontrato fra gli altri altri dirigenti del Mise e del Ministero del Lavoro, l'assessore alle attività produttive della regione siciliana, Linda Vancheri, il Sindaco di Termini Merese, Salvatore Burrafato e le organizzazioni sindacali. La proroga della cassa integrazione in deroga per lo stabilimento chiuso da dicembre 2011 si è sottolineato più volte durante il confronto, viene concessa unicamente in ragione di un quadro di quattro progetti di reindustrializzazione dei quali è stato illustrato lo stato di elaborazione. Fra queste due nuove aziende che avrebbero mostrato un interesse di investire a Termini Merese operano una nel settore della costruzione di un'auto ibrida, benzina, elettrica, con una ricaduta occupazionale di circa 500 addetti e una in quello della costruzione di batterie di ultima generazione con una ricaduta occupazionale di circa 100 addetti. Il tavolo su Termini Merese tornerà a riunirsi entro la fine di maggio. Con 216 voti a favore contro i 47 no, su 267 votanti e 318 a 20 diritto hanno detto sì all'accordo, si è dato giovedì scorso da Filt CGL, Filt CIS, Ultrasporti e UGL e la Catane Handling, il 318 lavoratori dell'azienda che gestisce i servizi aeroportuali di Catania. Il voto è stato quindi a favore del testo che sancisce la salvaguardia dei posti di lavoro, il rientro del licenziamento di 21 addetti e del rischio di fallimento dell'azienda. GESIP pubblicato il bando che prevede un incentivo di 26 mila euro lordi per quei dipendenti delle aziende interamente partecipate al Comune di Palermo che siano interessati a lasciare il lavoro oppure non potendo accedere al trattamento pensionistico. Il sindaco di Palermo, il procurlando, annuncia la pubblicazione sul sito del Comune e il bando per l'esodo incentivato dei lavoratori e delle municipalizzate a prividere quesiti pensionistici. Il bando, concordato con le organizzazioni sindacali nell'ambito del quadro più ampio di iniziative previste dal protocollo di intesa, siglato a dicembre col Ministero del Lavoro, la Regione Siciliana, l'Inps e l'Italia Lavoro, prevede un incentivo di 26 mila euro lordi per quei dipendenti delle aziende interamente partecipate dal Comune che siano interessati a lasciare il lavoro pur non potendo accedere al trattamento pensionistico. L'amministrazione comunale è intervenuta con un finanziamento di 6 milioni di euro e l'intera procedura è gestita da Italia Lavoro SPA, società indicata dal Ministero del Lavoro. Per aderire all'avviso, i dipendenti dovranno prenotarsi a partire dalle 10 di mercoledì 16 aprile direttamente sul sito del Comune di Palermo. All'atto della prenotazione, il dipendente prenderà la data in cui si dovrà presentare per consegnare la domanda. Le richieste saranno accolte fino all'uservimento dei fondi stanziati in base all'ordine cronologico dell'effettuazione delle prenotazioni. La Wiltux ha aperto uno sportello, afferma Mariana Flauto, il segretario generale della Wiltux Sicilia, per dare informazioni ai lavoratori sull'avviso. Quindi chiediamo di accelerare sui prepensionamenti, non vogliamo ritrovarci a giugno quando scadrà la cassa in deroga senza aver conseguito alcun risultato. A Palermo si sono persi 46 mila posti di lavoro, la riduzione dei consumi per ogni famiglia supera il 25%, ma in città continuano a chiudere le attività commerciali nella settimana di Pasqua. A dichiarare il merito alla questione Gazeb, alla prevista chiusura di 5 giorni per diversi esercenti, è il presidente di Confartigianato Provinciale, Nunzio Reina. In occasione dell'osservatorio economico, che ha evidenziato dati molto sconfortanti, mi aspettavo la presenza del sindaco, Leoluca Orlando, ma la sua assenza ha confermato ancora una volta di cerreine come le associazioni di categoria portavoce dei diretti interessati, penalizzati e danneggiati, vengano screditate. I nostri appelli sono stati inutili, le associazioni avevano chiesto un incontro, è rimasto tuttora senza risposta. E rimaniamo in argomento, come sempre è preciso e drammatico il rapporto sul lavoro a Palermo realizzato alla Camera di Commercio in collaborazione con l'Istituto Tagliacarne. Senza occupazione sono i giovani, ma soprattutto decine di migliaia di lavoratori dipendenti, ecco perché è necessario intervenire subito per rilanciare l'economia. Lo sostiene il segretario generale della UL Sicilia, Claudio Barone, che aggiunge la fondazione documenta come la maggior parte dei giovani è disponibile ad accettare forme di lavoro flessibile, ma questo evidentemente non basta. I nostri figli si trovano quindi a dover scegliere tra lavoro nero e emigrazione e precariato. Ecco perché è necessario che sindacati, associazioni datoriali e imprese aprano un confronto su come creare buona occupazione. Sono 135.000 le esenzioni ticket per reddito rilasciate finora dall'ASP di Palermo. Ben 70.000 persone hanno utilizzato la procedura online ricevendo il certificato sul profilo registrato nel portale dell'azienda sanitaria provinciale. Per venire ulteriormente in conto all'agente è stato creato per gli anziani over 65 con l'ascensione già validata da Sogei, un ufficio mobile che da oggi a venerdì 18 aprile sarà a piazza Castelnuovo. Oggi pomeriggio ad Altavilla Milica, presso l'aula magna della scuola media, la giunta del baby sindaco Biagio Genualdi, il consiglio comunale del ragazzo e l'istituto comprensivo Monsignor Gagliano incontreranno i commissari straordinari del comune, Domenico Fichera, Rosalie Leonora Presti e Salvatore Tartaro nell'ambito del progetto di educazione alla legalità e alla convivenza civile. Il baby consiglio si è insediato il 28 gennaio e ha già partecipato a diverse iniziative nell'ambito del progetto legalità, tra cui l'intitolazione della via dei Valloni ai 30 anni della marcia contro la mafia. La donazione del sangue, l'intrattenimento degli artisti di strada e il pranzo con la distribuzione delle uova di Pasqua per i bambini delle case famiglie. Saranno i principali momenti dell'iniziativa di beneficenza. Regaliamo un sorriso, la solidarietà per una goccia di vita, organizzata dalla FIT CISL e Associazione Donatori del Sangue, che si terrà domani a partire dalle 8.30 all'interno della stazione centrale di Palermo, in occasione della quale alle 11 sarà anche inaugurata una nuova sede del CAF del sindacato. A donare il sangue sarà il gruppo dirigente del sindacato. E ritorna in Sicilia il suggestivo tratto pittorico di Croce Taravella. Le opere dell'artista sono esposte a Villa Casa Urra a Bagheria e a Palazzo Sant'Elia a Palermo, dove rimarranno fino al prossimo 23 maggio. Vediamo. Quasi 30 giorni fa in realtà questa iniziativa. con l'artista per fare un suo grande ritorno. Da quanti anni mancava Taravella a Palermo? Mancava dal 2009, dopo l'ultima mostra nel 2008 alla Fondazione Federico II sale duque di Montalto. Abbiamo pensato che Croce Taravella mancava molto in questa città e Palermo aveva bisogno di un secondo ritorno e mi ha dato ragione perché all'inaugurazione abbiamo avuto più di 1500 persone. Croce Taravella ha voluto, comunque nei suoi quadri, nei suoi tratti, ha quella sensazione di bloccare l'immagine e trarre le cose più impossibili e aggiungere anche e costruire con la sua mente quello che è la città, cioè quei problemi con le sue quotidianità. Riesce a colpire lo spettatore con questi tratti anche di figure, di facce che non sono casuali, casuali ma colpiscono molto lo spettatore, lo mozionano pure. Le caratteristiche anche da un punto di vista tecnico è il suo tratto, proprio quella sorta di filo, di tratto sottile che è come un ricamo sul quadro. Sì, lui crea delle incisioni all'interno della tela, fa una grossa preparazione con stucco, gesso e polvere di marmo, crea uno strato di 3 mm sulla tela e all'interno di questo strato che si indurisce nel tempo, fa delle incisioni e gli permette di avere questa piccola linea incisa sulla tela e poi colora con i suoi colori particolari, questi colori che sono a volte molto accesi sugli allumini e invece nelle tele sono molto più scuri, anche perché la sua vita è questa, lui cerca di percorrere, è un percorso d'artista vero, lui è un vero artista, cioè riesce a vivere le emozioni e cerca di farlo vivere allo spettatore, una cosa che è difficile oggi. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.